Il Castello Orsini di Avezzano ha ospitato l'Assemblea Generale dei Socii di Confagricoltura L'Aquila, un momento di confronto e riflessione sull'intero comparto agricolo della nostra regione. Il Presidente Fabrizio Lobene ha evidenziato come il quadro generale agricolo, pur caratterizzato da una timida ripresa, necessite ancora di un sostegno da parte delle istituzioni. Presidente, Assemblea dei Socii, un momento anche per analizzare l'attuale momento che sta vivendo il comparto agricolo nella nostra regione? Grazie intanto, buongiorno e ringrazio questa opportunità che ci date di esporre la nostra idea di agricoltura all'interno del programma regionale. L'agricoltura in questo momento sta vivendo una fase di rallentamento come tutta l'economia a livello nazionale. Ovviamente l'agricoltura, che è un settore molto debole, risente in maniera particolare di questa crisi. Ovviamente la regione può intervenire a facilitare certe attività all'interno del programma di sviluppo rurale, per esempio, che potrebbe essere un po' più raccolto intorno alle esigenze vere del territorio. Questo ovviamente dipende molto dalla nuova organizzazione che si tratta alla regione e dagli accordi che avranno i nostri governanti a livello comunitario. Che 2019 si attende, Presidente? Ci attendiamo degli sviluppi importanti a livello regionale con questa nuova governance e un cambio di rotta importante.